Buongiorno e buon ferragosto a tutti. Oggi infatti è giovedì 15 agosto, sono le 9.52 appena scoccate e dato che l'indice italiano, il MIB, è chiuso oggi per festività, mentre invece il DAX ha aperto regolarmente, tra l'altro salendo, analizzeremo soltanto il DAX con l'analisi evoluta, un metodo statistico-matematico non discrezionale che è un'evoluzione dell'analisi tecnica e dell'analisi ciclica di Hurst e del Migliorino. Che cosa possiamo raccontarci in questa puntata? Prima di tutto partiamo dai dati, ciò che potrà interrompere il nostro trading momentaneamente durante la giornata, ossia i dati che arriveranno dagli Stati Uniti alle 14.30, tra cui le vendite al dettaglio dei beni essenziali, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, l'indice di produzione della Fed di Filadelfia e le vendite al dettaglio, che sono gli unici a tre stelle che, potendo influenzare anche solo temporaneamente i mercati, ci segnalano che è meglio stare fuori. Per quanto riguarda il DAX, ho ricontrollato febbrilmente quello che ti ho raccontato ieri, ossia che da qui potrebbe essere già iniziato, di nascosto tra virgolette a tutti, che cosa? Un nuovo ciclo settimanale di inverso? In questo caso, ciò che ci eravamo raccontati potrebbe avere una battuta del resto. Questo teniamocelo come possibilità. In realtà, la cosa primaria da andarci a raccontare è che, avendo già raggiunto, tra l'altro, dei livelli target che avevo dato durante le analisi su S&P 500 e Nasdaq, adesso è probabile che si risenta di questa salita e che, soprattutto per il discorso relativo a quanto siamo arrivati come tempo di inverso, siamo arrivati a 10 barre con oggi, che non si vede ancora, 11esima barra, siamo a 11 barre, sì, è vero, potremo ancora provare a salire per tutta la giornata, prima di finalmente mollarla, oppure fare ancora una spike di domani mattina, però, lato indice, che cosa abbiamo? Lato indice qui non abbiamo altre centrature oltre a quelle che puoi vedere, qui siamo a 5 barre con la barra rossa, 6, barra verde, non chiude un ciclo, siamo già alla settima barra, a un certo punto questo ciclo settimanale dovrà chiudere con un T-3 ribassista, un ciclo giornaliero ribassista, per questo motivo facciamo attenzione adesso, 1, siamo vincolati a salire, fino a che tempo? Siamo alla 16esima barra, fino a minimo a trovare un massimo assoluto con la 21esima barra sul DAX e quindi entro le 11.15, anche se sappiamo che si può andare a cercare un top assoluto anche fino alla 44esima barra che arriva alle 16, anzi che chiuderà alle 17 di oggi, qui devo ancora mettere a posto appunto i dati come al solito, e quindi tempo ne abbiamo ancora per salire, come di consueto però attenzione perché, se vogliono fare i simpatici, prima appunto di fare un top assoluto dalla 21esima barra in avanti, e quindi di superare questo massimo, il massimo attuale, possono far partire un ciclo di metà giornaliero, primo metà giornaliero che si chiama T-4 inverso, secondo metà giornaliero inverso, e quindi scendere un po' prima di tornare a pari o sopra questo massimo assoluto. Per questo motivo stiamo in campana, soprattutto perché oggi bisogna vedere davvero che volumi abbiamo. Ieri su Bitcoin sono scomparsi nella sera e succede che ci siano appunto dei momenti in cui non ci sono più, si può cambiare radicalmente una direzione, si può invertire dall'altra parte, per questo motivo facciamo attenzione soprattutto in chiusura del primo T-4, che tra l'altro solitamente arriva dopo la 9a, 10a, 11a barra appunto sul ciclo giornaliero lato invece indice. Questo è tutto per quanto riguarda il DAX, vediamo se la strada B non verrà toccata come mi auguro, vediamo se tra oggi e domani inizieremo uno storno almeno per una giornata, in modo da capire che tipo di forza poi avrà effettivamente questo movimento di salita, anche perché come dicevo in passato abbiamo violato degli swing veramente grossi scendendo, ma se non vengono confermati dai volumi, e i volumi in questo momento vogliono remare contro, attenzione perché cambia tutto il quadro di discesa che dicevamo. Per questo motivo noi seguiamo il trend principale e facciamo attenzione soprattutto al trend. Se hai qualsiasi dubbio come al solito sai che puoi andare direttamente sul mio canale, il primo in Italia per iscritti e per numero di video, in cui puoi vedere se effettivamente questa analisi funziona o no, puoi andare su playlist e fare tutto un corso gratuito di analisi ciclica di base per arrivare poi a quella evoluta. C'è anche sempre il sito analisievoluta.com, ti ringrazio per il tuo tempo e se hai gradito a quest'analisi fatta anche durante Ferragosto, che significa che i risultati si ottengono senza mollare mai, altrimenti no pain no gain, metti un bel like e condividi con tutti gli amici. Buon Ferragosto ancora!